io sono bravo bello a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale mister brandon channel oggi siamo a fuor d'aliso e andiamo a fare un po di shopping oggi abbiamo appena parcheggiato guardate questa macchina adesso saliremo sopra ciao ragazzi buongiorno ciao ragazzi qui è fiordalise un centro commerciale che si trova a milano adesso andiamo sopra questa è l'entrata del negozio poi comunque oggi fa freddissimo adesso saliamo ragazzi c'è già lì per poi ci sono tanti negozi qua poi ci sono anche tante persone aspetta dove si entra? non sei di là l'entrata entrata di là adesso entriamo che bella questa l'entrata è piena di luci ok dentro fa caldo meno male che bello ragazzi è grandissimo il posto guarda che bello giunta ai mamma di là stanno cucinando oggi sono i cibi adesso dopo mi sa che assaggeriamo buono lo so le sushi ci sono tanti negozi qua ci sono tante persone ci sono tanti negozi qua adesso andiamo a vedere le mie magliette di là non lo so per natale vestiti per natale ecco il mango non è solo per donne ragazzi solo per donne qua ci sono solo vestiti per donne ci sono tanti vestiti qua ci sono tante scarpe belle guardate guardate oh delle jordan 100 quanto costa? 129 guardate le scarpe adidas però costano tante scarpe costa tanto costa tanto quindi è bello che si è scarpe si sono troppo bello si ci sono tanti oggetti di legno che hanno costruito l'oro ma dove andiamo? come si? come si? come si? come si? come si? come si? ci sono tanti vestiti di natale Sì, qua c'è l'Adidas E io dopo voglio andare a vedere qualcosa dentro Gusto che i compriremo questo film No? Dove sono le film? non ci sono ecco bols per maschi qua ci sono i pantaloni di minecraft anche le felpe aspetta dove sono? non ci sono più le magliette qua ecco qua ci sono le felpe oh no non ci sono non ci sono le felpe stiamo cercando stiamo cercando però non c'è niente tutto per piccoli qua prendiamo questo mamma? si compriamo questo quanto costa 16 euro 16 euro mi sa che sono troppo grandi questi qua sono troppo grandi non ci sono quelli piccoli quelli grandi e quelli piccolissimi non ci sono quelli per me che bella queste magliette bambini queste felpe sono belle ragazzi sono già stanco poi mi giro la testa mi sono a cercare i miei vestiti perché ce ne sono tantissimi ci sono troppo vestiti qua mi fa morire la testa sono stanco dai sto andando qua all'angolino così nessuno mi disturba ok ragazzi adesso mia mamma sta pagando mi sa che adesso dopo aver pagato andiamo a Nike a vedere qualcosa tipo delle scarpe così ok adesso siamo fuori dal Primark perché abbiamo appena finito di fare la spesa per mia sorellina che sta dormendo adesso andiamo a cercare i miei vestiti e andiamo a casa stiamo speditando l'ascensore vediamo intanto accendo questo ok dai vediamo chi apre di prima adesso sono insomma dun 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 dun